E salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo mio nuovo video Quello di oggi è un video stranissimo che mi è venuto in mente veramente dal nulla E mi son detto boh facciamolo vediamo come va perché potrebbe essere interessante Oggi infatti come avete letto dal titolo parleremo di un argomento molto delicato Ovvero il sistema operativo che viene usato nella Corea del Nord Come voi sapete non c'è certo bisogno che ve lo spieghi io La Corea del Nord è uno stato totalitario dove vi è una dittatura Quindi la maggior parte delle cose che si possono fare nel resto del mondo Comunque qui in Italia lì non sono neanche lontanamente pensabili Vi sono tantissime limitazioni per dirla in una parola E ovviamente visto che siamo su questo canale Oggi vi voglio parlare della limitazione dal punto di vista informatico Infatti a quanto pare o meno questo è quello che dice Wikipedia All'interno di quello stato i computer eseguono tutti un solo sistema operativo Questo sistema operativo è stato rilasciato nell'internet normale Quindi è possibile scaricarlo, installarlo e provarlo sui nostri computer E visto che da qualche screen di questo sistema operativo ho potuto notare degli aspetti un po' strani Ho pensato subito di farci un video reaction La cosa che mi fa ridere, ve lo faccio vedere qui su Wikipedia Dunque il sistema sarebbe Red Star OS Che appunto significa stella rossa in inglese E appunto viene usato dal governo nordcoreano E' stato sviluppato a partire dal 2002 Quindi dovrebbe essere comunque un sistema radicato nel tempo E questa cosa mi ha fatto sorridere Prima del suo sviluppo i computer in Corea del Nord montavano la versione inglese di Windows XP Un sistema meno chiuso di Windows XP credo non esista Noi oggi proveremo la versione 3 che è stata rilasciata nel 2013 E purtroppo ragazzi il sistema operativo è offerto solo in lingua coreana Localizzato con la terminologia e la pronuncia nordcoreana Ci sarà da divertirsi La cosa però che mi ha fatto più ridere di tutti è questo sito Quello dal quale effettivamente si scarica la ISO di questo sistema operativo Che si chiama Opening Up North Korea Non vorrei essere nei panni del creatore di questo sito Comunque come potete vedere qui c'è la ISO che si può scaricare L'ho semplicemente scaricato ma non ho fatto nient'altro Proprio per il bene della diretta Quindi comunque ho scaricato questa ISO Direi di lanciare il nostro programma per le macchine virtuali E vedere un po' come si comporta Quindi aggiungiamo subito una nuova macchina virtuale Direi di fare l'installazione dalla ISO ovviamente Trascina qui il nostro file ISO Chissà se lo riconosce già A quanto pare no Perché non riconosce il sistema operativo Direi quindi di andare ovviamente su una distribuzione di Linux E se ci fosse Fedora Io andrei direttamente su Fedora Visto che comunque dovrebbe essere una distribuzione di Fedora Eccolo qua Fedora a 64 bit Proviamo a dirgli così e vediamo cosa succede Magari personalizziamo un po' le impostazioni Red Star OS Oddio io spero sia 64 bit in realtà Nel dubbio io di RAM gliene do solamente 4 GB Gli do 2 core E basta direi Direi che siamo pronti Voglio proprio mettere a schermo intero e vedere cosa ci riserva Questo Red Star OS Ok non sembra dare segni di vita Niente mi sa che Fedora non gli è piaciuto Forse dovrei provare con un'altra Attenzione schermata blu Invece Fedora gli è piaciuto lo ha caricato Con una risoluzione imbarazzante ma lo ha caricato Allora qui c'è un attimo un problema logistico Che sì fratello sono d'accordo anch'io con queste scritte Però non so cosa cliccare Quindi visto che noi vogliamo fare le cose per bene Non vogliamo che ci esploda il computer Utilizzerò la traduzione tramite immagine di Google Traduttore che funziona molto molto bene Ok vediamo un po' cosa vuol dire il titolo iniziale Our Expression System Red Star Ok quindi questo sarebbe tipo il motto del sistema operativo Con un alto livello di stabilità performance Ok è il vostro motto ve lo state amando questo sistema Continuiamo Direi di selezionare questo disco Installa dai vado un po' a caso Ok questi sono i dati di login Con la possibilità anche di scegliere un avatar Va io direi di mettere la Tire che è molto bella Scegliere un paese Effettivamente ce ne sono solo 4 Mi chiedo quali siano Ok a quanto pare questa è Pyongyang Quindi la capitale della Corea del Nord Gli altri sono luoghi in Giappone Non so perché in Giappone si dovrebbe usare questo sistema Io metto Pyongyang perché sono un po' masochista Ok credo voglia solo una conferma Quindi gli dico di installarlo Perfetto lo sta installando Vediamo quanto tempo ci impiega Secondo me boh Quando lo apriamo troveremo delle cose abbastanza strane Adesso lo scopriamo Magari se non supporto il wifi Gli condivido l'ethernet così Forse riusciamo anche ad andare su internet Vedere se ci sono dei blocchi già di default o no Che poi se è una distribuzione di Fedora Linux Dovrebbe essere un sistema aperto Cioè per definizione Linux è un sistema aperto Quindi chissà C'è un conto alla rovescia Come fa a calcolare così precisamente il conto alla rovescia di installazione? Meglio di Windows raga Si sta riavviando il computer Direi di scegliere di buttare da Red Star OS Questo dovrebbe essere il boot manager di Red Star OS Con anche l'autoboot raga Io non ho fatto niente Ma la risoluzione di questo sistema operativo qual è? È 244p Perché ok che questo è un monitor 2k Ok che forse lì i monitor 2k non ce li hanno nemmeno Però questo login raga è quello di Leopard È stato fatto un clone grafico di macOS Con tanto guardate di dock Questa dock bar è la stessa identica Proprio uguale Sembra che abbiano preso le immagini Da OS X Leopard Il modo di aprire le cartelle è identico a quello di Mac Questo dovrebbe essere il finder Il riduce icona, l'animazione Ora vediamo per esempio la calcolatrice Anche questa è identica a quella di Mac Abbiamo il calendario Onesto ci sta Video Questo è il browser Chissà che razza di browser è Sembra una distribuzione di Mozilla Tipo vabbè poi vedremo se riusciamo a connetterci a internet Allora metto la visuale a icone Così almeno posso orientarmi sull'icone E capire dove sto andando Bella però l'apertura delle cartelle Con l'effetto zoom Quello che io però vorrei capire è Dove sono le applicazioni Dovrebbero avere quest'icona qui Il che significa che non si trovano nella cartella utente Ma proprio come su Mac OS Si trovano in slash Raga non ho parole Questo è Mac OS È identico Cos'è questa roba? Uno strumento di tortura? Che bello Raga è uno spartito Cioè è un'app per creare spartiti musicali Questa è bellissima Oddio io non faccio più spartito dalle medie Raga è fatta bene Vediamo cos'altro c'è in questa cartella Vabbè Il terminale C'è qualcosa che non va attivato la tastiera in coreano No No raga aspettate Devo cambiare la tastiera Perché l'ho messa in coreano Adesso come faccio a cambiarla? Mi sa che basta cliccare su questo bottone Raga Fermi fermi Boni Si ok Bastava cliccare su questo bottone Per cambiare Dicevo SSH funziona E poi peraltro noto Che se io faccio Su-C Huami E inserisco la password E mi dice che la password non è corretta A questo punto mi chiedo Sudo invece funziona Pint is not allowed to execute Who am I as root E se io gli do un qualsiasi altro comando Come root Guardate L'utente root è È disattivato Non ho i permessi di admin Effettivamente Nella Corea del Nord ci può anche stare Questa cos'è? Un dizionario? Ah no 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 Questi sono i font Giustamente Che provano l'icona in coreano Questo serve per scrivere? Un programma molto stupido per scrivere Peraltro così io posso scrivere in coreano Bellissimo Vediamo Questo cos'è? Un software proprietario Ah È praticamente un Un word Cioè io ho word Excel Interessante Beh comunque è fornito questo sistema Questo è il browser E vorrei veramente capire se Ci fosse un modo per farlo funzionare Anche se onestamente non credo Anche perché Andando nelle preferenze di sistema Andando nelle impostazioni Di internet Questo in coreano vuol dire Rete disabilitata Onestamente non lo so Ho anche provato a andare Su questo IP Perché volevo effettivamente Vedere almeno questo Nae Nara browser Come si presentasse Però andando da questo IP Nel mio Mac normale Non carica la pagina Non so se è perché la pagina Non c'è più O se perché in Italia Non ci possa andare O cose del genere Comunque io non sono sicuro Che non vada internet Perché non ha internet fisicamente Ma potrebbe anche essere bloccato Anche perché guardate qua Questo IP a quanto pare È l'IP di un motore di ricerca 10.76.1.11 Sarebbe interessante capire Che razza di IP è questo Vedete se io provo a pingare a questo IP La connessione scade Non funziona Quindi peccato che non siamo riusciti A far andare internet Ma forse era esattamente Quello che volevano loro In teoria Però voglio cercare un'ultima cosa Nae Nara browser È un browser nordcoreano Sviluppato dalla Corea Computer Center Usato nell'intranet di quella città Quindi c'è un intranet Ecco perché secondo me Non è in grado di uscire E andare nei siti normali Come vi avevo detto È basato su Mozilla Firefox Esatto Vedete quando il browser si esegue Prova a connettersi all'IP Questo qua che abbiamo visto noi Però qui dice comunque Che il motore di ricerca predefinito È Google Corea Che non so se avrà delle limitazioni Fatto sta che sicuramente Se c'è un intranet Dall'Italia Non ci potremo mai entrare Quindi ragazzi Che dire Io spero che questo video Vi sia piaciuto È un video diverso dagli altri Io più guardo questo sistema Più veramente mi rendo conto Che è Mac OS Tant'è che so ambientarmi Tranquillamente Anche se la lingua non è la mia Perché ragazzi Cioè vi faccio vedere Andiamo qui nella sezione doc Che è identico a Mac Questa è la dimensione del doc E questo invece è l'ingrandimento Raga È identico a Mac Mi raccomando Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo sistema operativo Comunque chiuso Perché internet funziona malissimo O meno Qui non funziona proprio Però dall'altro lato Ha un programma per fare musica Misteri della vita Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Fatemelo sapere Lasciando un bel pollice in su Che mi renderebbe veramente felice Seguitemi su tutti i miei social network E come sempre Il link vi rilascio Qua sotto giù in descrizione Cliccando qui la ti potete raggiungere altri miei due video Invece cliccando qui al centro Vi iscrivete al mio canale Se lo fate siete dei grandi Io vi mando un grande saluto E noi ci rivediamo In un prossimo video In un prossimo video Grazie a tutti i nostri spettatori